Musica Rosalba Rispo, consigliere d'opposizione del Movimento 5 Stelle a parete e una recente polemica, quella dei rifiuti, molti cittadini si sono lamentati della mancata raccolta e c'è anche la problematica legata alla mancata realizzazione dell'isola ecologica. Com'è la situazione? Allora, innanzitutto grazie a Campania Notizie, la situazione è fuori norma, nel senso che molti cittadini si lamentano giustamente dei rifiuti che non vengono raccolti tra l'umido e l'indifferenziato, anche addirittura per una decina di giorni, in un periodo come l'estivo che quindi crea una serie di problemi che non sembrano attualmente risolti, nonostante le rassicurazioni della maggioranza. A fine settembre è previsto un consiglio comunale e come capogruppo del Movimento 5 Stelle ho presentato un'interrogazione per quanto riguarda l'isola ecologica. Infatti, diciamo, questa tematica è molto sentita dai cittadini, oltre ad essere comunque anche un punto di forza di questa amministrazione, nel senso che loro in campagna elettorale avevano molto puntato su questo tema, però ad oggi non c'è niente di concreto, quindi Parite non ha un'isola ecologica come invece in tantissimi altri paesi è la normalità. Oltre, diciamo, alla mancata raccolta dell'umido e dell'indifferenziato c'è anche il problema degli ingombranti, perché infatti abbiamo appurato personalmente insieme al nostro gruppo di attivisti che c'è una difficoltà proprio nella raccolta degli ingombranti, quindi bisogna fare delle prenotazioni molto molto lunghe e la disponibilità del servizio, diciamo, quindi arriva molto in ritardo. Questo significa che il cittadino deve trattenere comunque l'ingombrante presso la propria abitazione e quindi con delle difficoltà gestionali concrete. Presenterete quindi un'interrogazione, in generale la vostra opposizione riesce a collaborare, cioè riuscite a trovare collaborazione da parte della maggioranza oppure no? Questa è una bellissima domanda e devo risponderle dipende, nel senso che devo riconoscere che alcuni componenti di questa amministrazione hanno uno spirito collaborativo, quindi hanno compreso anche la buona volontà, diciamo, dell'opposizione, almeno quella del Movimento 5 Stelle, di voler fare delle proposte ma anche di cercare di risolvere dei problemi del paese. E infatti con il delegato all'ambiente, almeno in via informale, perché di scritto per i consiglieri non c'è una delega scritta ma solo per gli assessori, che è un caso, diciamo, strano per il nostro comune, mi riferisco, diciamo, al consigliere delegato Falco, con il quale abbiamo anche avuto l'opportunità di fare una bella iniziativa, diciamo, in un parco dove dal degrado siamo passati perlomeno a un minimo di stabilità, di decoro comunque per i cittadini, un quartiere che ha bisogno veramente di essere riqualificato e di attenzione e di cura come tutti gli altri cittadini di parete. Quindi è nato questo bellissimo parco segreto che al momento, diciamo, è un po' in itinere perché ha riacquistato, diciamo, un po' della sua bellezza ma sicuramente c'è ancora tanto da fare e quindi attendiamo da parte della maggioranza che tengano fede alle promesse fatte. Però, oltre il caso specifico, purtroppo le considerazioni sono negative perché in generale questa maggioranza ha un atteggiamento molto, molto aggressivo nei confronti dell'opposizione, cerca sempre di silenziarci in consiglio comunale ma anche in dibattiti che si creano magari anche sui social, diventano quindi offensivi, in particolare mi riferisco al sindaco ma anche ad altri assessori che quindi non recepiscono come invece si dovrebbe, come la normalità, un appunto dell'opposizione che può essere fatto anche in modo duro perché io sono sempre stata dell'opinione che quando è giusto farlo l'opposizione deve essere molto, molto dura nei confronti della maggioranza. Allo stesso tempo quando è giusto, diciamo, essere collaborativi noi siamo presenti. Quindi purtroppo io ho assistito ma anche allo stesso tempo ho subito proprio degli atteggiamenti aggressivi da parte di questa maggioranza per dei motivi che onestamente sono futili, cioè sono dovuti a una discussione politica e io non credo che questo ci faccia onore perché rappresentiamo le istituzioni locali e quindi è bene che noi manteniamo sempre un certo livello istituzionale. Mi riferisco anche all'ultimo consiglio comunale dove sinceramente la sottoscritta aveva soltanto posto un problema sulla protezione civile, sui roghi tossici e ci sono state risposte dell'assessore delegato veramente, diciamo, poco opportune. Per quanto riguarda poi gli interventi da mettere in atto o richieste disattese, cosa c'è da fare ancora? Sì, allora, una proposta a cui noi teniamo moltissimo come tutto il meetup del Movimento 5 Stelle di Parete quindi insieme alla sottoscritta è il garante dei disabili. Abbiamo fatto un percorso lungo che è cominciato con una mozione approvata all'unanimità in consiglio comunale e poi il passaggio per l'approvazione del regolamento, però ad oggi non abbiamo ancora il bando. Noi raccogliamo le istanze dei cittadini e sappiamo che anche questa tematica sociale è molto sentita quindi le persone hanno l'esigenza di avere un loro referente territoriale e speriamo che venga presto bandito, diciamo, il nome è scelto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.